Il modo in cui ci sentiamo fisicamente influisce in tutti i campi della nostra vita, personali, professionali, sociali ed emotivi. Ci sono giorni in cui senti che il tuo corpo non sta al passo. Ritrova la libertà di movimento con Forever Move. Questo innovativo integratore contiene una miscela esclusiva di due ingredienti molto efficaci, NEM e BioCurk. NEM, a base di membrana del guscio dell'uovo, è un ingrediente brevettato che sostiene il movimento fisiologico, promuove la funzionalità delle cartilagini, diminuisce la rigidità dei muscoli e delle articolazioni e promuove una veloce fase di recupero dall'attività fisica. BioCurk, con tecnologia di produzione brevettata che apporta curcominoidi, ha un'azione utile come antiossidante e per la funzionalità articolare. Muoviti senza limitazioni verso i tuoi obiettivi con Forever Move.